Buongiorno, oggi prepareremo dei taglioni bicolore e li andremo a preparare con un pestato di zucchine zafferano ursini, succo di lime, scorsetta di limone, naturalmente useremo del burro per rosolare la scorsetta di limone e il lime, parmigiano reggiano, sale, pepe, allora porteremo ad ebollizione l'acqua, io ho messo del sale, del pepe, un po' d'olio aromatizzato al lime, dopodiché metteremo il nostro burro, l'andremo a sciogliere, aggiungeremo le nostre scorsette di limone, aggiungeremo il succo di lime metteremo due cucchiai di zucchine zafferano, il nostro buon pestato dell'azienda Ottini che prepara degli occhini fessati, andremo a mettere un mestolo e mezzo di acqua di pasta, nel frattempo io ho abbassato già i nostri tagliolini che vorranno giusto 3-4 minuti, dopodiché faremo finire la cottura nella padella, andiamo a colare i nostri tagliolini e li buttiamo qui e gli facciamo finire la cottura insieme al condimento, e senza mistero, allegre ma non troppo metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, da noi rimane in sottofondo dentro ai supermercati la cantano i soldati, i figli alcolizzati